Il cantante mascherato, Millie Carlucci, la combina grossa, scappa lo spoiler Il cantante mascherato, anticipazione a metà, conduttrice si blocca sul più bello La combinata grossa Millie Carlucci che si è lasciata andare a uno spoiler sulla quarta edizione del talent ispirato al format statunitense, The Masked Singer La conduttrice è pronta per tornare al timone dello show che quest'anno ha cambiato giorno di messa in onda, passando dal venerdì al sabato, e si scontrerà con il serale di Amici di Maria De Filippi, che debutterà proprio sabato 18 marzo Ma non è tutto perché tra le novità ci sarà anche qualcosa che riguarda il video di presentazione iniziale delle maschere, e a svelarlo è stata proprio la presentatrice su Instagram Stories Ha rivelato Su cosa anticipazione sul cantante mascherato? Avete presente le clip in cui i protagonisti si raccontano prima dell'esibizione Canora? In questa clip Il video si è poi interrotto sul più bello, tenendo alta la suspense Fortunatamente sul profilo Instagram della trasmissione, è stato riportato il filmato integrale Millie Carlucci si espone Vi aiutiamo a conoscere i concorrenti davvero da vicino Senza peli sulla lingua la conduttrice del cantante mascherato, ha proseguito il suo spoiler raccontando Quest'anno noi vi aiutiamo a conoscere i concorrenti davvero da vicino Vedrete il personaggio a figura intera, solo più avanti indosserà la maschera e vi darà degli indizi Ha poi proseguito la sua sfiziosa anticipazione sul programma del sabato sera della prima rete sottolineando Questa è la fase iniziale in cui il personaggio parla di se stesso e quindi Sulle orecchie per cercare di carpire ogni segreto Insomma tutto è pronto per la nuova edizione della trasmissione che vedrà in gara ben 12 machere che sono Il porcellino, i colombi, lo scoiattolo nero, la cricetina, la rosa rossa, l'ippopotamo, il riccio, il ciuchino, lo squalo, il cavaliere veneziano, la stella e il cigno Il cantante mascherato anticipazioni Tutte le novità sulla nuova edizione In attesa di vedere di nuovo Millie Carlucci al timone del talent di Rai 1, in questi giorni sono trapelate diverse anticipazioni La conduttrice, oltre a puntare un ballerino di Fiorello di Via Rai 2, avrà ogni serata una maschera per una notte, ossia un VIP che si esibirà, e dovrà cercare di tenere nascosta la sua identità Di puntata in puntata gli ospiti indosseranno sempre lo stesso travestimento Una maschera a forma di cuore che sarà molto grande e impedirà di riconoscerli dal fisico Tra le novità ci saranno anche delle new entry in giuria Accanto ai riconfermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, siederanno infatti Serena Bortone, Iva Zanicchi, e Cristian De Sica Accanto ai riconoscerli dal fisico